Ciao, io sono Gabriele di Mosaico Spirits e noi ci occupiamo di realizzare gin con un metodo innovativo e per questo siamo abbastanza diversi da una distilleria tradizionale. Sicuramente l'evento è molto riuscito, Bologna è una fucina di idee, di cose da fare, di voglia di fare e questa sera ne è un po' l'esempio. Sicuramente abbiamo visto sia molti studenti che erano interessati a collaborare con noi sia anche imprenditori, business angel che erano intenzionati ad investire nel nostro progetto. Quindi sicuramente un feedback positivo.